Benvenuti sul nostro canale YouTube dedicato alle notizie, Gossip. Siamo entusiasti di condividere con voi le ultime novità e curiosità riguardanti il mondo dello spettacolo e delle serie televisive. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere neanche un aggiornamento. Dimet Özdemir, la talentuosa attrice e ballerina turca, è stata recentemente avvistata a Milano in compagnia di alcune amiche prima di dirigere verso l'ippodromo Snayla Maura per assistere al concerto di The Weekend. Dopo un delizioso pranzo dal salumaio, le ragazze hanno passeggiato per le affascinanti vie della città, condividendo chiacchiere, risate e scattando qualche selfie spontaneo. La carriera di Dimet Özdemir è stata una continua ascesa verso il successo. Nata il 26 febbraio 1992 ad Ismit, Turchia, ha iniziato la sua carriera come ballerina professionista, distinguendosi in programmi televisivi di danza e talent show, in Patria. Ma è stata la sua interpretazione di Sanem Aydin, nella celebre serie televisiva turca Erken Cikus, conosciuta come Day Dreamer in Italia, a fare decollare la sua carriera internazionale. La serie, trasmessa tra il 2018 e il 2019 in Turchia, l'ha vista recitare accanto all'amato attore turco, Kanyaman. Grazie a questo ruolo, Dimet Özdemir ha conquistato il cuore di molti spettatori in Patria e all'estero, diventando una delle attrici turche più amate in tutto il mondo, compresa l'Italia. Ha proseguito la sua carriera, anche sul grande schermo, interpretando il ruolo di Asli, nel film Tattiche d'Amore, distribuito da Netflix. Tuttavia, non è solo la sua carriera artistica a far parlare di sé. La vita privata di Dimet Özdemir è stata spesso oggetto di speculazioni e pettegolezzi. Durante il periodo in cui recitava con Kanyaman in Day Dreamer, i fan sognanti speravano che la chimica tra i due fosse più di un'amicizia sullo schermo. Tuttavia, nessuno dei due ha mai confermato o smentito queste voci di una possibile relazione romantica. Nel 2021, Dimet ha ufficializzato la sua relazione con l'attore e cantante Oguzhan Kok, ma la coppia ha attraversato delle difficoltà e, purtroppo, ha annunciato il divorzio nel maggio 2023, dopo soli otto mesi di matrimonio. Al momento, Dimet Özdemir risulta essere single. Nonostante le vicissitudini della sua vita privata, Temet Özdemir rimane una delle attrici turche di maggior successo e continua a essere amata e apprezzata dai fan in tutto il mondo, compresi quelli italiani che seguono con entusiasmo le sue interpretazioni, come quella di Zeynepi My Home My Destiny. La sua bellezza, il talento e la genuinità hanno conquistato il cuore di molti, facendo di lei una delle figure più affascinanti e interessanti del panorama artistico contemporaneo. Grazie di averci seguito. Se vi è piaciuto il video e volete restare sempre informati sulle notizie, gossip e le serie tv più interessanti, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al nostro canale YouTube. Ci vediamo al prossimo video.